signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale secondo video di commento alle vostre proposte per quanto riguarda la rubrica dello scrivere una quest anche questo mese sono arrivate un sacco di proposte io voglio ringraziare tutti quelli che hanno scritto le proposte e soprattutto quelli che sono presi la briga di leggere e andarle a votare perché se non ci fossero quelli che scrivono e non ci fossero quelli che votano questa rubrica non potrebbe neanche esistere un sacco di idee interessanti anche questa volta in questo video andremo a commentarle una per una e da questo poi potremmo le idee che ci serviranno nel video che immagino uscirà la settimana prossima su cosa effettivamente fare per andare avanti nella scrittura della quest non perdiamo altro tempo queste sono le vostre proposte per l'idea iniziale anche stavolta vi ricordo che i commenti che farò alle vostre proposte sono a titolo puramente personale lo dico sia per quelli che hanno scritto sia per quelli che stanno semplicemente vedendo il video per rubare delle idee per le proprie quest quello che io dico vale per come la penso io non necessariamente i vostri gusti sono uguali ai miei quindi potrei benissimo sbagliarmi prendo le idee nell'ordine in cui me le visualizza youtube quindi non so che abbia scritto prima che abbia scritto dopo iniziamo alla prima che è quella di gianni augurale ci sono due fazioni la gilda della magia e la fazione persone normali che fanno ricorso alla tecnologia chiunque abbia poteri magici o comunque in generale si interessi in magia è obbligatoriamente parte di questa gilda che è capeggiata da un circolo di magli anziani chiunque si interesse di scienza o più in generale non abbia affinità alla magia è obbligatoriamente parte della fazione persone normali che fanno ricorso alla tecnologia che è capeggiata da un leader che potrebbe essere benissimamente o di stampo criminale o di capo di partito totalitarista i rapporti tra i membri di entrambe le fazioni sono ridotte al minimo se non praticamente inesistenti viene ritrovato ucciso un membro importante di una delle due fazioni io direi un anziano del circolo dei maghi di minore importanza ma va bene anche qualche altro membro di spicco della fazione tecnologica dagli esami del corpo della vittima risulta che alla vittima hanno sparato ma il cadavere porta anche segni di qualche tipo di aggressione magica che ne so il corpo è stato sotto gli effetti di qualche risucchio di energia pertanto entrambi le fazioni accusano che sia stato un membro dell'altra fazione a compiere un omicidio e i rispettivi capi per evitare di scatenare una guerra tra fazioni decidono di creare un gruppo investigativo misto che sarebbero i pg i pg nel corso delle loro indagini scopriranno la presenza di qualche complotto ordito dai membri secondari di entrambi le fazioni allo scopo di far fuori i rispettivi capi attuali per potersi sostituire ad essi gianni in questa prende proprio uno degli elementi cardinali di quello che avevamo detto cioè la commistione tra magie e tecnologia e ha ricavato le sue fazioni proprio da questa distinzione la fazione dei maghi e la fazione dei mondani e ha collegato il conflitto centrale della quest cioè l'omicidio di per sé a queste due fazioni ha anche inserito il twist che in realtà sono entrate entrambe le fazioni o non è stata nessuna delle due comunque la storia qua è abbastanza completa questa potrebbe già essere di per sé una delle linee narrative ma le vedremo nel prossimo video la divisione così è molto netta se stiamo parlando di un'ambientazione in cui c'è un commistione di magia e tecnologia il fatto che le due fazioni si separino appunto tra quella della tecnologia e quella della magia ride un po con quello che dovrebbe essere il carattere generale del mondo perché le due cose dovrebbero funzionare assieme per dare l'ambientazione però è un modo di vederlo personalmente io qua avrei visto una roba del genere più che altro come due gruppi estremisti del mondo in cui la maggior parte della gente usa indifferentemente sia la magia che la tecnologia comunque è una di quelle che ha ricevuto più voti in assoluto quindi è uno dei candidati sì è uno dei possibili candidati a diventare almeno per quanto riguarda le fazioni uno delle delle idee centrali della quest e adesso abbiamo flutto kings che è un altro di quelli che hanno proposto che gli eroi siano direttamente collegati alla vittima mi è venuta un'idea di questo tipo nella città metropoli come in tutte le grandi città vivono ogni tipo di creatura ideologia eccetera hanno trovato una pace un equilibrio momentaneo ma ognuna cerca di ottenere il potere assoluto la fazione tecnologica la fazione della magia la fazione tecnomagia la fazione naturalistica e teocratica gli avventurieri da tempo stanno collaborando con un abile cercatore non schierato il quale è riuscito a elaborare uno strumento particolare e rivoluzionario questa invenzione mette assieme tecnologia e magia per generare uno scudo protettivo per l'intera città sì tipo un mitrallare ok il gruppo rientra al laboratorio di ritorno da una missione per recuperare un minerale prezioso qui trovano tutto sotto sopra e il cadavere del loro patrono i pieni progetti sono scomparsi allo stesso tempo arrivano sul luogo i rappresentanti delle forze dell'ordine alle quali è arrivata una soffiata e qua fondamentalmente fa presagire un livello di più diciamo che flu token si è concentrato principalmente sul crimine perché ok elenchi una serie di fazioni però sono lasciate molto in forza in realtà hai messo solamente i nomi che il party sia collegato direttamente al crimine va molto bene perché questo dovrebbe motivare i personaggi il problema di questo è che non c'è una grande motivazione per i giocatori perché forse l'hai studiata troppo dal punto di vista appunto dei personaggi e non dei giocatori perché per quanto i personaggi lavorassero per questo scienziato e fossero di ritorno da un'altra quest dal punto di vista dei giocatori la quest si apre con loro che trovano il cadavere non conoscono neanche ancora reciprocamente i loro personaggi se non per quello che gli altri giocatori gli hanno raccontato non hanno idea di chi sia il cadavere al di là del fatto che il master gli ha detto quello è un vostro amico e quindi voi siete interessati alla quest e anche le fazioni di per sé sono un po deboli e credo che anche in realtà il pubblico ti abbia un po punito perché infatti è di quelle che sono piaciute di meno però in realtà questa idea che i giocatori e che il delitto sia un assassinio e che quello che è stato assassinato è un amico dei personaggi è un'idea che hanno proposto in molti quindi credo che comunque diventerà parte della nostra narrativa passiamo adesso a Don Vecchi che è uno di quelli che ha esposto la sua idea nella maniera più schematica di cui lo ringrazio tantissimo la città in cui si svolge la narrazione è un piccolo centro industriale in forte crescita la causa della forte crescita economica è dettata dalla scoperta di un giacimento di qualche materiale grezzo fondamentale nella costruzione della tecnomagia in uso l'estrazione e la lavorazione del materiale però comporta numerosi rischi per la salute e chi ci lavora si usano delle bestie particolari per l'estrazione del materiale questo è già un piccolo intessimento di world building e sono belle queste cose perché sono cose che magari nella quest non ci serviranno ancora però intanto ha già buttato idee per altro tra l'altro sia lui che flu talking hanno inserito in qualche modo l'esistenza di qualche particolare materiale la narrazione gira intorno a un'esplosione di un carico destinato alla raffineria della città i gruppi che girano intorno a esso sono corporazione mineraria il cui scopo principale è il profitto a scapito dei lavoratori vogliono meccanizzare magari con costrutti l'estrazione e la lavorazione per poter estrarre H24 autorità cittadine il cui scopo è la crescita sociale ed economica nella città non si oppongono a meccanizzazione ma stanno attenti a eventuali rivolte dei minatori tutti i lavoratori che orbitano intorno alla cattura e allevamento delle bestie usate per l'estrazione sono contrari alla sostituzione del bestiame nel processo estrattivo ma non si oppongono a meccanizzazione della raffinazione associazione dei minatori il cui scopo primario è la preservazione del posto di lavoro e in secondo luogo il miglioramento delle condizioni lavorative si oppongono a meccanizzazione per non perdere il posto di lavoro e chiedono di poter operare anche in condizioni gigiagevoli tramite supporti appositi oggetti magici che magari filtrano le sostanze dannose chiesa locale per loro il lavoro dell'uomo è una via di purificazione dell'anima e morire sul posto di lavoro è una sorta di garanzia di paradiso si oppongono a qualsiasi meccanizzazione il gruppo viene assoldato dalla corporazione per recuperare delle info che uno dei morti nell'esplosione possedeva un contratto stabilito tra la chiesa e la corporazione mineraria la chiesa avrebbe fornito qualcosa alla corporazione per essere utilizzata negli scavi la chiesa avrebbe poi citato in tribunale la corporazione avrebbero trovato un accordo preliminare la chiesa avrebbe quindi guadagnato all'estrazione meccanizzata e qua invece abbiamo un approccio diverso perché non è il caso di omicidio ma qua abbiamo spionaggio industriale finito male questo è molto più un thriller rispetto alle altre storie Don Vecchi tra l'altro ha usato un sacco di fazioni e si è concentrato molto sulle fazioni e i loro scopi in modo che fondamentalmente credo che l'approccio che abbia usato è assegnare una lista cioè ha trovato il conflitto centrale cioè la meccanizzazione del lavoro tra iper industrialismo e luddismo puro e poi ha mischiato i vari interessi in modo a ricavarne le fazioni aggiungendo poi un minimo di loro a tutto mi piace come idea bellina il diciamo che ha citato talmente tante fazioni che forse sono eccessive ma è possibile che alcuni elementi di queste poi le potremo mettere nelle fazioni quelle effettive e il prossimo è Mirto Muschi che da quello che ho visto è quello che ha preso più sul serio l'idea di noir un nobile patrono dei pg viene trovato morto nell'underground della città tipo catacombe passaggi segreti che mettono in comunicazione i luoghi diversi passando anche per le fogne ucciso in maniera brutale il nobile era coinvolto in un giro di droghe scommesse clandestine in una visca sotterranea e ignota i più il governo cittadino dà la colpa ai criminali che gestiscono il giro dato che probabilmente aveva perso più di quello che poteva permettersi viceversa l'underground dà la colpa all'elite che si voleva sbarazzare di una presenza scomoda e imbarazzante entrambe le fazioni uccidono i pg per trovare le prove qua manca un che siano stati gli altri ma durante le indagini imballano una terza ipotesi che qualcuno stesse sperimentando mutazioni innaturali e le indagini evidenziano come dà il colpevole potrebbe essere una bestia di natu... scusate che qualcuno stesse sperimentando mutazioni naturali e le indagini evidenziano come dà il colpevole potrebbe essere una bestia di natura che lentamente appaierà essere sovrannaturale infatti il nobile era anche parte di un'associazione esoterica di alchimisti Mirto qui... tra l'altro Mirto è uno dei pochi che ha proposto effettivamente di inserire una fazione di criminali all'interno del giallo non so come gestire questa situazione perché io all'inizio avrei dato per scontato che sarebbe stata quella ovvia invece in realtà pochissimi hanno hanno fatto questa scelta di stile comunque Mirto qua fondamentalmente è un altro di quelli che ha proposto l'esistenza della fazione segreta cioè che ci sia una terza fazione che regge le file e che in realtà non stia con nessuna delle fazioni che effettivamente sono state presentate forse l'unica tecca di questo è che anche in questo caso Mirto si è concentrato molto più sul delitto di per sé che sulle fazioni che ha senso perché nella sua proposta in realtà le fazioni servono solo come paravento alla vera e propria fazione che sarebbe quella degli alchimisti l'unica nota di tipo personale che potrebbe causare un errore di logica se poi non viene effettivamente sviluppata in trama e che presentato così sarebbero quasi sicuramente i nobili perché se lui doveva dei soldi alla mafia la mafia è agli unici che non avevano un interesse ad ammazzarlo perché se no i soldi non li avrebbero mai rivisti quindi probabilmente gli avrebbero spaccato le gambe ma non lo avrebbero ammazzato che potrebbe essere anche una cosa voluta per depistare i personaggi subito contro i nobili e il prossimo è Indiana che di nuovo ha voluto pensare fuori dagli schemi stavolta proponendo un'idea che ha avuto molto successo sia di pubblico che di critica da quanto vedo perché effettivamente è abbastanza geniale nello scorso video alcuni avevano contestato il fatto che inserire troppe fazioni avrebbe appesantito la narrazione perché ogni fazione avrebbe dovuto essere introdotta singolarmente ai personaggi Indiana ha deciso di risolvere direttamente questa situazione non in teoria ma nella pratica della quest i personaggi vengono a contatto con un oggetto magico interessante ma infestato da un fantasma che non ha più memoria di chi era in vita o come fosse stato ucciso se vogliono l'oggetto dovranno accompagnare l'ospetto per scoprire dei problemi che lo legano alla vita di cui il defunto stesso non ha memoria e risolvere il suo omicidio ovviamente questa idea si può agganciare a qualsiasi altra idea qui sotto e spiega appunto il fatto che lui ha usato questo per non dover perdere tempo nella descrizione delle fazioni anche perché fondamentalmente in realtà Indiana ha trovato un modo ottimo per inserire lo spiegone in maniera diegetica all'interno della trama loro si portano dietro il morto e quindi è lui a spiegare loro le cose tra l'altro questo è un ottimo modo per fare forza sui temi dato che stiamo parlando di un noir tra tecnologia e magia qualcosa che non potrebbe essere presente in un normale romanzo giallo cioè la vittima che racconta la sua parte della storia in quanto il morto è morto però dato che stiamo parlando in un fantasy quindi non è così assurdo che un morto partecipi direttamente all'indagine per il proprio omicidio poi Indiana propone anche la sua idea per il delitto Indiana non si è occupato più delle fazioni ha voluto concentrarsi esclusivamente sul delitto il morto era un esponente della fazione 1 si è suicidato e il suo corpo è stato nascosto per tradire la propria fazione d'accordo con la fazione 2 impersonata una donna di cui si è invaghito perché in ogni noir che si rispetti c'è una femme fatale ha inscenato la propria morte per far combattere la propria fazione 1 contro la fazione 3 in cambio la donna l'avrebbe resuscitato e dato una nuova identità cosa di cui si è ben guardato dal fare anche questo è un esempio ottimo di uso del canone ma in alta ambientazione sì effettivamente la femme fatale dietro l'omicidio è un trope classico del noir e anche il piano è andato a bene in questo caso il piano è andato male e che il tizio si aspettava di essere resuscitato cosa che in un normale giallo non potreste trovare ma questo comunque è un fantasy no? abbiamo adesso Pietro Sgarzi che invece è uno di quelli che si è occupato più del world building città portuale emergente dal punto di vista commerciale i giocatori sono dei freelance che si trovano spesso a lavorare assieme questa volta sono stati pagati per garantire il pagamento di un debito fatto sta che il debitore viene ritrovato assassinato la vittima addosso a degli oggetti della nascente compagnia tecnomagica del regno di Merck regno in buoni rapporti confinante la compagnia in questione ha diverse sedi nelle maggiori città di cui la nostra il patrocinante dei personaggi li ha solda per indagare per far sì che riesca a recuperare il debito facendo leva sui nobili politicanti che tiene sul libro paga per potersi approfittare delle proprietà della vittima la vittima si scopre appartenere a una delle maggiori fratellanze criminali del porto nella quale ci sono due fazioni chi lo amava come un visionario e chi lo odiava sopportandolo solo per la sua bravura tecnica infatti questa persona è un inventore, alchimista e ingegnere allunghiamo una lista tipo Wikipedia di Leonardo da Vinci e riusciva a dare la sua superiorità nelle merci di scambio che fossero droghe magiche o soprattutto oggetti e equipaggiamenti tecnomagici ognuna delle tre parti in causa patrocinante, compagnia tecnomagiche e criminali hanno dei buoni motivi per rimanerlo morto che cosa sarà successo? Pietro al contrario di Indiana si è concentrato esclusivamente sullo sviluppo delle fazioni e ha totalmente lasciato da parte l'omicidio cioè, ok, c'è stato un omicidio ma lui ha pensato più che altro al world building e questo è anche bello perché le fazioni che ha proposto in realtà sono molto diverse tra i loro sia per temi che per interessi l'unico appunto che devo fare è che quando parli delle parti in causa dice che sono tre il patrocinante, la compagnia tecnomagica e i criminali ma in realtà sono quattro perché all'interno dei criminali ci sono a sua volta due fazioni quelli che erano i suoi alleati e quelli che erano contrari a lui questo dipende molto da quale sarà poi la scintilla nell'omicidio perché diciamo che questo è un sacco di roba che si può utilizzare in altre storie che comunque è lo scopo di questi video quindi un ottimo lavoro e il prossimo è di Okuto King che ci porta sull'isola dei demoni vedo delle connessioni tra le cose propongo una rivitazione di una quest che ho già riassemblato e riproposto più volte in chiave diversa e che magari può servire da spunto ad ambientazioni e fantasy e con due sole fazioni potrebbe mettere in luce alcune cosette carine e utili anche per altre idee le fazioni sono due anche se i pg lo scopriranno dopo diverso tempo era una campagna e provengono entrambe alla stessa dimensione che sembra raggiungibile solo tramite apposite trasporti si scopre poi che il luogo è in realtà non troppo distante dall'isola in questo caso città in cui si svolge la quest e che nel luogo le due fazioni si scontrano una per farmacello fuori dall'isola caccia di energia da sfruttare per alimentare delle robe che non sto a spiegare e l'altra è una sorta di resistenza capitanata dal re dell'isola che vuol far stare tutti questi demoni tranquilli senza creare conflitti i demoni invasori ovviamente sfruttano alcuni espedienti per semplificare il recupero dell'energia tra cui allearsi umani che vadano a loro volta a scandagliare la gente per constatare quanta energia abbia a disposizione in una locanda tramite bicchieri catalizzatori nel mio caso così da ottenere il massimo risultato con la minima fatica il punto è che uno dei demoni invasori aveva avvicinato una ragazza a cui aveva anche donato svariati poteri essendosi lei invaghita di lui quindi è il risultato tutto piuttosto semplice questo è un sunto o ipersunto ci sono png di ogni tipo che però in generale le ideologie diventano ma si uniamoci a chi effettivamente porta vantaggi e chi si fa i cazzi suoi campa cent'anni nel senso che alcuni pg volevano che le cose restassero tranquille ognuno per il proprio motivo e gli altri apprezzavano di finire ad allearsi con gli invasori per altrettanti motivi personali allora poi parla dell'adattamento una love story tra l'umano e il demonio ok grazie per la dritta ma diciamo che in questo caso sarebbe molto dura cioè per via del fatto che dire questo non si buttano mai niente se c'è del materiale già pronto che si può riadattare per la storia sarebbe ottimo ma dal punto di vista di un giallo questo è fin troppo esagerato qua si parla praticamente della guerra tra gli abitanti di un'isola e degli esseri sovrannaturali e tra l'altro è un archè molto fantasy quindi non diciamo che questo striderebbe molto con quello che stiamo cercando di fare come questa se stante invece potrebbe essere questa potrebbe essere banalmente il pitch di una campagna di D&D e sarebbe probabilmente anche molto interessante per i giocatori però non va molto bene per il giallo e infatti mi sa che anche il pubblico non abbia particolarmente apprezzato perché un solo like per l'isola dei demoni di Okuto King e Karstein è l'ultimo Karstein è l'ultimo ma non ultimo perché in realtà è uno di quelli che ha ricevuto più apprezzamento in generale quindi quasi sicuramente la sua proposta entrerà in qualche modo nell'idea finale i Meccano Baroni una elite di umanoidi che hanno avuto sostituzioni totali o parziali di organi vivi con dei costrutti magici di fatto controllano la città sono la quota maggioritaria del consiglio della cancelleria l'alto cancelliere è un umano o una qualsiasi altra razza naturale stanno nel consiglio direttivo dell'economia e della finanza il loro scopo è sostanzialmente la promozione della sostituzione completa degli organi con dei corrispettivi costrutti e l'uso esclusivo della magia a chi possiede almeno un costrutto è vietata a tutti gli altri l'alto cancelliere si opera questa tesi il rapporto con le altre città da parte dei cittadini è fortemente contrastato contraste sulla vendita di materiale esportato elevatissime per esempio da qualche giorno dopo la prima sostituzione nell'alto cancelliere di una sua parte con un costrutto per motivi non del tutto chiari lo si trova immediatamente favorevole alla legge sulla magia controllata di cui sopra e il rischio della provvizione della magia diventa un ipositi sull'altro che il reale gli altri appartenenti all'alto consiglio aprono le indagini sulla caccia al colpevole del complotto i meccano baroni apparentemente non contrastano le indagini anzi danno tutto il loro supporto se ne occupano ipg e viene proposto loro in caso di successo oltre al compenso monetario da parte dell'alto consiglio anche la sostituzione di qualche loro parte con dei costrutti magici e l'esonero dal costrutto di controllo da parte dei meccano baroni in caso di successo dall'altra parte girano sempre più frequenti dei manifesti di un gruppo di resistenza conosciuto col nome di puri esperti nelle arti magiche arcane che non hanno subito nessuna sostituzione la cui posizione contraria sulla proibizione della magia e sull'obbligo di sostituzione è nota molto spesso li si visti protagonisti o li si fatti passare come protagonisti di episodi di violenza ai danni ai sostituti uccisioni, rapimenti e tonture comprese contrariamente ad altri che li descrivono come una fazione non violenta Castain è un altro dei pochissimi che hanno voluto utilizzare qualche altro tipo di crimine che non fosse un omicidio in questo caso un ipotesi di complotto in realtà anche Castain se in realtà focalizzato esclusivamente sulle fazioni in questo caso i meccano baroni che fondamentalmente sono cyborg contro i puri che invece sono delle sorte di primitivisti da quello che si capisce in realtà qui sconfiliamo un po' più sulla fantascienza che però credo vada benissimo ed è anche una di quelle più apprezzate quindi diciamo che sicuramente i meccano baroni diventeranno una delle fazioni all'interno della quest Castain era l'ultimo sì era l'ultimo quindi queste sono state le vostre proposte io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato tutti quelli che hanno votato di nuovo se non foste per voi questa rubrica non esisterebbe neanche quelli che hanno ricevuto più voti sono stati Carstain e non voglio sbagliarmi e Gianni Augurale tra l'altro Gianni si è poi anche introdotto in un'altra linea narrativa io adesso prenderò tutte queste vostre proposte e cercherò di condensarle in un'unica storia complessiva ovviamente dando priorità a Gianni Augurale a Carstain che sono quelli che hanno vinto questo mese mettiamola così sicuramente però molte altre idee verranno prese e come ho detto un'altra volta vedrò quelle che sono state proposte in maggioranza ci sono state molte proposte per alcune fazioni che si sono ripetute in vari pitch vediamo i pitch che hanno avuto i voti complessivi più simili è una roba che ci metterò qualche giorno di tempo a fare noi ci rivedremo settimana prossima domenica dovrebbe essere pubblicato il video in cui io avrò finito di fare tutto questo lavoro vi dirò quali sono stati i risultati da cui avremo la nostra idea iniziale e lì nonostante molti l'abbiamo già fatto ma potremo cominciare veramente a occuparci delle linee narrative reali che abbiamo visto in teoria nella settimana scorsa e settimana prossima vedremo nella pratica cioè creare le linee narrative per questa specifica quest fino ad allora se ci sono domande, dubbi o perplessità come sempre scrivetele nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video